Ciao a tutti, allora oggi io e Jessica presentiamo una lezione di corpo libero, facciamo un piccolo riscaldamento generale e poi facciamo un tono al body, iniziamo, via! Andiamo, andiamo, su! Cerchiamo di scaldarci bene, vai, 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 su! Ancora, eh, qualche secondo, andiamo, su! Alte le ginocchia, iniziamo, vai, 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 oh! Cerchiamo di mantenere, ancora, dai! 5, 4, 3, 2, corta calciata dietro, andiamo, palloni alti, eh! Vai, vai, hop, su! Cerchiamo di toccare con i palloni glutei, andiamo, hop, vai, vai! Ancora, iniziamo, ispiriamo, bravo, forza, eh! Dai che abbiamo appena iniziato, forza, forza! Ancora, 5, 4, 3, 2, e marcio! Ok, braccia, spingiamo bene verso l'alto, facciamo, andiamo ad allungare bene le braccia, vai ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, avanti, via! Bene, cercate di mantenere la colonna di estensione, eh! Dai, ancora, 4, 3, 2, 1, ripartiamo dalla corsa, via, su! Ginocchi alte, vai, 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 vai! Bene, forza, forza! Via, 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 via! 5, 4, 3, 2, 4, 3, 2, forza, calciata, dietro! Bene, dai, ancora! Bravi, forza, forza! Manteniamo, chi c'ha spazio può fare anche un giretto dentro la stanza, eh! Via, non so già! Su tavolo, su tavolo, intorno al tavolo! 5, 4, 3, 2, 1, marcio con le braccia! Su! Bene, cerchiamo di allungare bene le braccia un'alto, come se vorriamo arrivare al soffitto! Ancora! Avanti! Via, 1! 7, e 8! Ok! Andiamo ad aprire, destra e sinistra, via! Lenti, eh, battiamo! Giù, giù! Coordiniamo bene il movimento! Braccia e gambe! Via, via, via! Ancora! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Proviamo ad aumentare! Hop, 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 hop! Dai! Vai! E, e, ancora! Ancora! Voto 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e marcio! Sballe! Brava! Ok! Poi ci siamo scaldati, no? Bene! Allora, prendete due pesetti, noi abbiamo due pattine, se non avete le pattine potete utilizzare due straccetti, 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 vedi che ci punite, già spolverate, ok, non spolverano meglio per voi, i dovaioni, i dovaioni, ok, iniziamo dalle braccia, gambe leggermente divaricate, andiamo a lavorare con i bici, ne facciamo due serie da 8 e vai a martello, 1, 2, 3, gomiti stretti, 4, 5, 6, 7, 8 ancora, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, mettiamo i pesetti, altezza fianchi, andiamo a fare dei piccoli piegamenti sulle gambe, squat, via, e 1, 2, 3, bravi! Scegliamo bene, eh, come se pieno di noi c'è uno sgabellino, ci dobbiamo sedere per poi tornare, hop, via, hop, via, stretti, stretti, glutei mentre salite, dai ancora, e ne date ancora, 5, 4, 3, 2, e 1, portate i pesetti avanti, giù, lasciateli giù piano piano, appoggiate le mani a terra, camminate, portiamo indietro le gambe, teniamo la posizione, cercate di mantenere il bacino alto, non lo lasciate cadere verso il pavimento, ricordatevi sempre di inspirare dall'asso ed ispirare dalla bocca, teniamo, 5, 4, 3, 2, 1, salvo, via, corsetta, andiamo, l'abbiamo fatta prima, la ripetiamo, eh, corsetta, ginocchia, anche, dai, su, dai, corsetta, ragazzuola dietro, di nuovo, altre ginocchia, di nuovo, dietro, ultimo giro, eh, su, ultimi dietro, ok, stop, marcio, di nuovo pesetti, andiamo, pronti, secondo giro, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, di nuovo pesetti ai fianchi, apriamo un pochino le gambe, via, andiamo a piegare, 1, 2, 3, 4, ritico la schiena, eh, guardatevi allo specchio se ce la avete, se non avete uno specchio, guardate, comunque avanti, andiamo, hop, e, hop, e, ce ne abbiamo, 8, 4, l'ha detto Jessica, secondo voi ve ne faccio, fa solo 4, no, andiamo, 4, 3, 2, finì giù, termine, non vi muovete, giù i pesetti, scendiamo, 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 appoggio, avanti, ritengo, ritengo, tenete la schiena in linea, addomi stretto, inspiro e respiro, teniamo ancora qualche secondo, non mollate, 4, 3, 2, salgo, via, su, dai, 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 forza, 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 4, 3, 2, corsa calciata dietro, sempre 3 giri, eh, pronti, via, più veloci, più veloci, di nuovo, 4, 3, 2, vai, che è l'ultimo, al massimo, ci siamo, vai, ultimi, calciata dietro, la corsa, ok, vai, piano piano la mettiamo, riprendiamo i pesetti, ok, allora, ora ci servono le pattine, eh, quindi, come ho detto prima, gli stracciati, spinti in alto, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e, volta ancora, in, tenete l'addome stretto, eh, dai, ancora, gli ultimi, 4, 3, 2, 1, ok, giù i pesetti, partina, piede destro, o sinistro, o sinistro, facciamo un muco e due, pronti, andiamo a fare un affondo, portando indietro la gamba, eh, con la partina, eh, cambia tempo, ti pioverà, via, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lento, eh, controllate il movimento, dai, 8, lento, controllate il movimento, lento, bene, dai, ultimi 4, ultimi 3, ultimi 2, ultimo, stop, torno, cambio, pronti, stiamo, via, 1, 2, scendo bene, ritico la schiena, respirate, mi raccomando la respirazione, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ultimi 2, 1, ok, volevo dire, se non avete le pattine e non avete gli straccetti, fate la fondo indietro e tornate, ok? Chi non ha niente? E chi c'è il tappeto? E chi c'è il tappeto? E chi c'è il tappeto? Sennò Jessica... E chi c'è il tappeto? Ok, andiamo ad appoggiare le mani a terra, sempre con le pattine o straccetti, andiamo a portare le ginocchia sento alternate, via, sotto, in ed espirate, via, 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 ancora, e, 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 dai, dai, ancora, giù, off, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Chi non ha le pattine, negli straccetti, lo fa senza niente, quindi sarà questo, ok? Bene, jumpy jack! E anche chi c'è il tappeto! E anche chi c'è il tappeto! Pronti? Andiamo! Forza! Però c'è il tappeto e lo fa spostato! No, chi c'è proprio il tappeto attaccato, va! Il tappeto attaccato per te, però! Anche chi c'è il gatto lo fa, eh! E' il tappeto sotto il piede! Andiamo! Ultimi! 8, 7, 6, 5, 3, 2, stop! Via! D'accordo come siete? Pronti? Ogni vento respirate, bevete, eh! Via! Su! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed è ancora! Ultimi! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Andiamo per l'affondo! Pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, scendo bene! 6, 7, ultimi 8, eh! 8, 7, 6, 5, 4, 3, ragazzo 2! L'ultimo rimani! Fuori le braccia! Tieni! Torno! E cambio! Via di là! Pronti? Andiamo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dai! L'ultima serie, eh! Forza! 8, 7, 6, 5, 4, all'ultimo rimani, eh! Ora le mani giù! Su! Apri il petto! Inspiro! E torno! Tutti e due! Accogliamo le mani! Pronti? Girare il caffetto veloce! Dai! Ho! Forza! 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 In piedi! Ultimo jumping jack! Andiamo! 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3... E... E... Su! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3... E stop! Ok, bevete, eh! Recuperate un attimo! che facciamo l'ultimo blocchetto bene? sì pensi che sto ancora a casa? sì mi raccomando eh vediamo i vostri video eh mandateci qualcosa durante le nostre lezioni sarebbe carino ok allora vi procuriamo un tappetino se c'hai del tappeto va bene il tappeto sopra se avete il tappeto se avete il tappeto se avete il tappeto allora vado indietro qui ok allora facciamo tricibili in piedi ok ci siamo? ok gommi distretti gambe leggermente piegate sempre controllo a livello addominale e andiamo 1 2 3 4 5 6 7 dai ancora in 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 andiamo 6 5 5 4 3 2 l'ultimo stop ok a terra con te andiamo a sollevare bene i glutei stringendo al massimo appunto i glutei pronti? via su sollevate bene il bacino verso il soffitto andiamo sali scendi sali scendi ancora dai dai hop e hop e su e giù su e giù ancora forza andiamo in respiro 8 7 6 5 4 3 dai che sono 2 vai che è l'ultimo rimani in alto ma tieni il bacino alto eh stringi stringi continua a respirare cerca di mantenere le scapole in appoggio sempre volando in estensione stringi stringi al massimo i glutei 4 3 2 1 lentamente scendiamo pattine ok sempre sotto i piedi eh allora sempre mani in appoggio vado a portare il ginocchio lateralmente pronti vai andiamo su in fuori l'anea salvo vai come se il ginocchio vuole toccare il volito eh però dalla parte esterna vai vai ultimi 4 e stop scendo scendo scarico un attimo a schiena scendo scarico un attimo a schiena scendo scarico un attimo a schiena scendo ok lentamente saliamo ultimo giro via pronti pronti gommi distretti come i precipiti inspiro 1 2 3 4 5 5 dai flette ed estendo dai 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 sono 8 7 6 5 4 3 ultimi 2 e stop scendo gli vo' ponte cercate la massima vostra azione dei glutei eh mentre sollevate il bacino andiamo via 1 2 3 4 sali su dai resisti ancora 8 mancano 3 all'ultimo rimani eh rimani a 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 5 6 6 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 4 3 2 3 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 12 13 13 14 14 15 15 15 16 15 16 16 18 18 20 19 20 20 20 20 21 21 22 22 23 ci sentiamo sopra i talloni e da qua andiamo a sciogliere un pochino le spalle inaspiro e mentre inaspiro andiamo ad allungare i muscoli del collo cambio torno, inaspiro e mentre inaspiro letto la testa in avanti cerco di avvicinare bene in mento allo sterno torno e sciolto un pochino facciamo un giro in senso orario e un giro in senso altiorario controllate sempre bene la respirazione e tornate al centro, ora appoggiate le mani a terra appoggiate le punte dei piedi, inaspiriamo e mentre inaspiriamo andiamo ad appoggiare tutta la pianta dei piedi a terra piano piano avvicinate le mani ai piedi, piegate leggermente le gambe e andate a salire con la colonna del paletto e una vertebra alla volta indietro le spalle, sciolgo 4, 3, 2, un bel respiro inaspiro, ci allungiamo bene verso l'alto e fuori l'aria scendo ciao